Trump, ma è vero che sta avanzando Trump? Trump sta vincendo, sta avanzando, la Harris ha perso quel vantaggio che aveva ottenuto dopo il dibattito. Uno degli elementi è l'immigrazione, però io devo dire che se l'immigrazione e il dibattito è soltanto fra respingiamoli e accogliamoci, vince la destra, come la destra tedesca dimostra. Il problema è che Trump sta proponendo di deportare 8-10 milioni di persone facendo dei campi di detenzione e questo è qualcosa di molto preoccupante, io credo, ma che sta passando attraverso grande parte delle classi medio-bassi americane. Piccola pausa.